E' arrivata la sconfitta, con la licesa com'era andata, ci tenevamo in particolare a questa partita, sapevamo che era dura, era una squadra che aveva subito pochi gol, ci hanno segnato nel primo tempo, forse nel primo tiro ci hanno fatto in porta dopo tre occasioni brillanti nostre, e poi il primo tempo duro, però nel secondo tempo sapevamo che potevamo venire fuori a fare la differenza, c'è mancato un po' di fortuna, c'è mancato il solito gol annullato validissimo, tutte le domeniche ci annullano, purtroppo il calcio è questo e poi dopo su un'invenzione al novantesimo, su una palla calciata da lontanissima, da loro numero 11 abbiamo preso questo gol, peccato per i ragazzi perché al secondo tempo hanno fatto una grossa prova di carattere e di sicuro meritavamo molto di più in questa partita.